Marco Rancati, Simone Fornasari e Marco Caraffini ruoterà intorno a queste tre esperienze musicali la puntata di questa sera di Piacenza di Notte in onda ogni settimana il giovedì alle 20.20. Ai microfoni di Alessandra Lucchini gli artisti si racconteranno. Rancati parlerà della sua Billie Jean versione tango e dei primi mesi al timone della nuova band anni 80 degli Shout, mentre Fornasari annuncerà il ritorno sul prestigioso palco della piazza di Mantova dove aprirà il capodanno di Ron. I due progetti già avviati lasceranno così spazio alla carriera più recente di Caraffini che a Tele Libertà porterà al suo album La Raccolta delle Arange. Questa è l'ultima puntata del 2013 nella forma tradizionale di 30 minuti. In serbo per gli amanti della musica ci sono infatti due speciali che chiuderanno l'anno. Intanto resta attivo l'indirizzo mail per partecipare al programma. Grazie per la visione!